Ci sono giornate che possono cambiare la vita di un imprenditore e cambiano perché l'imprenditore si mette in gioco. Decide di accettare il confronto con professionisti che gli possono offrire delle soluzioni, che gli possono offrire la capacità e la possibilità di guardare il proprio lavoro da una diversa prospettiva. Noi lo faremo proponendovi dei grandi professionisti nel campo del coaching, dei professionisti in grado di intervenire sui vostri pensieri, sulla vostra mente, cercando di darvi la possibilità di essere maggiormente positivi e di essere maggiormente concreti nell'interpretazione della vostra attività. Io dico sempre che quando un progetto di formazione funziona, chi ha seguito quel determinato percorso deve tornare a casa portandosi sempre dietro qualcosa, portandosi un patrimonio, portandosi qualcosa da spendere a partire dal giorno seguente nella propria attività. Io in quella giornata mi occuperò della comunicazione. La comunicazione è un valore fondante dell'impresa. La comunicazione aiuta a lavorare sulla nostra immagine, aiuta a farci lavorare su quello che riguarda la nostra reputazione quando la proponiamo all'esterno, dà un abito ideale a quello che il nostro prodotto e la nostra azienda. Non è un valore superfluo, non è un lusso. La comunicazione è indispensabile. Solo se è adeguatamente comunicata, un'azienda, un'impresa, un professionista può pensare di essere visibili. Non avere un'adeguata strategia di comunicazione vuol dire non essere in campo, non essere neanche scesi in quel campo dove noi dobbiamo giocare la partita del nostro futuro. Io vi farò comprendere come attraverso semplici ma profonde strategie di comunicazione la vostra attività professionale di imprenditori e di professionisti può realmente cambiare a partire da alcune tecniche che svilupperemo insieme e a partire dall'atteggiamento mentale che ci deve portare ad affrontare la comunicazione con profitto. Vi ringrazio e vi aspetto naturalmente insieme a tutti gli altri coach per una giornata veramente particolare che vuole dare una svolta alla vostra attività.